link motors busignano via napoleone buonaparte 116 b presentiamo oggi una citroen jumpy 1.5 diesel 120 cavalli immatricolazione novembre 2021 cambio manuale con soli chilometri 39.000 unico proprietario unico proprietario ultimo tagliando effettuato a dicembre 2023 interamente certificato in casa madre citroen furgone agile e comodissimo praticamente come nuovo disponibile doppio treno di donne prezzo iva esposta chiusura centralizzata telecomandata controllo operazione luci diurne monitoraggio pressione pneumatici ruota di riserva alza cristalli elettrici bracciolo climatizzatore cruise control interni in pelle e tessuto limitatore di velocità sensori di parcheggio anteriore e posteriore specchietti laterali elettrici android auto auto radio digitale youtube controllo vocale usb viva voce volante multifunzione schermo multifunzione interamente digitale antifurto seconda chiave presente dotazione di sicurezza filtro antiparticolato immobilizzatore elettronico marmita catalitica pneumatici estivi stop stop automatico contattata la link motors gusignano allo 080 81 72 831 377 35 66 041 segui la nostra pagina web www.linkmotors.it filiale gusignano www.linkmotors.it filiale gusignano.it filiale gusignano